una tavolara morsa dall'inverno un gruppo di giovani una serie di morti misteriose tingono di giallo e alimentano l'intreccio del nuovo romanzo di paolo pinna parpaglia il mistero di tavolara presentato mercoledì a tempio all'interno del ciclo di incontri mintua parole in circolo è un romanzo di ambientazione un po la gata cristi il dieci piccoli indiani che si che si ambienta nell'isola di tavolara racconta di un gruppo di ragazzi che in periodo invernale hanno deciso di trascorrere una settimana nell'isola di tavolara e poi una violenta tempesta di maestrale li blocca lì in questa situazione uno dopo l'altro periscono in circostanze misteriose ci sarà un poliziotto che cerca di capire cosa è successo all'interno di questa location molto suggestiva si cercherà di capire cosa è accaduto ai tuoi vari ragazzi il cui racconto è riferito sul letto di ospedale dall'unica a soversi per Maria Soli tavolara come dicevo un'isola piena di suggestione innanzitutto per una questione come dire araldica c'è un re di tavolara che esiste tuttora ma poi anche per il fatto che un attratto dell'isola di tavolara è interdetto ai più perché c'è la base nato c'è la base militare dal 1962 unendo questi fattori la suggestione la bellezza e anche il mio personale attaccamento a quell'isola che conosco da quando sono ragazzino ho voluto imbastire una una storia dove in qualche modo il violo i confini militari i confini geografici e anche i confini come dire razionali